Chiamerei gli amici colleghi alla tavola rotonda. Mi è stato chiesto da Roberto se può fare da icebreaker e soprattutto so che hai una importante negoziazione da chiudere notturna e quindi hai necessariamente da doverci lasciare per le 10.30. Quindi io partirei da te e poi seguirei un po' il nostro flusso. La nostra conversazione è su due temi. Uno è le priorità, le sfide che le vostre aziende immaginano, ovviamente sul tema del capitale umano, dove state concentrando la vostra attenzione, che investimenti immaginate ma anche che disinvestimenti state pensando e magari se c'è live una reazione a quello che ha detto il professore sarebbe molto interessante sapere il vostro pensamento. Roberto, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, parto proprio dal fatto che vi devo lasciare subito per aver finito il mio intervento perché a Roma oggi pomeriggio iniziamo, speriamo, l'ultimo miglio di una trattativa sindacale complessa e che ci porterà a fare tanti investimenti. Quindi quando tu parli di investimenti è evidente che dare 435 euro medi, mensili, di incremento alla terza e a quarto livello del nostro settore è un investimento che cuba quasi il 12% di incremento costo. È un investimento che peraltro va letto un po' perché va letto nella storia del mondo bancario, va letto sul fatto che andiamo a coprire un'inflazione che comunque cuberebbe intorno ai 400 euro e quindi va letto come un investimento che facciamo sulle nostre persone per cercare di gestire un po' quello che può essere il nostro futuro. Voglio portare un'altra esperienza, noi il 12 di dicembre usciremo con un piano strategico e il piano strategico l'abbiamo fatto in maniera classica, quindi vari cantieri, 19 cantieri verticali con tutte le linee di business. Però io ho proposto al mio amministratore di fare una cosa un po' alternativa e riprendere la tua apertura di questa giornata. Abbiamo messo 15 dei nostri ragazzi laureati da tre anni in banca per tre giorni in una location molto carina e li abbiamo fatti lavorare su un piano strategico alternativo rispetto a quello dei manager. e devo dire che gliel'ho fatto presentare all'amministratore delegato la scorsa settimana e finita la presentazione mi ha chiamato fuori e mi ha detto oh Roberto è meglio di quello che stiamo facendo noi, ci sono delle idee che cosa vuoi fare adesso, tagliamo le singole idee, le mettiamo presentate dai giovani nei vari cantieri e vediamo come svilupparle. Quindi tu mi parli del futuro. Il futuro è evidente che è un futuro che va fatto in una ricerca della qualità di quello che stai facendo e la qualità non può passare anche attraverso la gestione delle tue persone. In un momento in cui in azienda tu hai cinque generazioni da gestire e quindi nel momento in cui tu hai anche la complessità di fare un'offerta, penso anche solo formativa, differenziata per le varie fasce. Oggi tenere i giovani da 30 ai 35 anni è molto complesso perché anche se un giovane si trova bene nella loro testa, hanno la testa del cambiamento continuo e quindi magari il cambiamento vuol dire anche cambiamento di settore, di esperienze e quant'altro e quindi riuscire ad attrarli e a fare un percorso con loro che non sia spot ma sia orientato al medio e lungo termine è decisamente complesso. Quindi da questo punto di vista penso che le nostre grandi priorità siano quello veramente di accompagnare un cambiamento che c'è del mondo interno all'interno del cambiamento che le banche devono andare a governare. Parlavo prima col professore che in un indice di statistica le banche sono al terzo posto del gradimento del mondo esterno, dietro di noi ci sono solo i partiti politici e il Parlamento, quindi davanti anche il sindacato. Quindi te la dice lunga quello che è un settore cruciale per il Paese come viene visto dalle persone esterne. Quindi fare banche in maniera un po' diversa penso che sia un mestiere che in tanti stiamo cercando di fare, penso che il settore in questi anni ha fatto tantissimo, penso ai drammatici momenti del Covid, se non ci fossero state le banche a sostenere tutto quello che era l'economia reale avremmo avuto grandissime difficoltà. Quindi credo che ci sia una lunga strada da percorrere con i giovani e per i giovani, perché penso che poi il futuro delle nostre strutture nascono dai 2012 che tra poco diventeranno strategici all'interno della nostra azienda. Grazie Roberto. Paola, mi pare che il tema sostenibilità sia chiave anche nel ragionamento di un settore, scusa l'hai detto te quindi non ti offendere, nella parte bassa delle attese, delle aspettative delle persone giovani. Voi come state immaginando il futuro? Su cosa vi state concentrando? Sì, allora intanto mi piacerebbe che quello che ci diciamo oggi avesse un po' lo stesso valore tra cinque anni, perché oramai ci siamo abituati a un cambiamento che è veramente molto molto veloce da tutti i punti di vista. Provo a rispondere, diciamo in termini di priorità direi tre. Allora sicuramente la motivazione delle persone, quindi un'azienda che sia più sostenibile nel lungo periodo, proprio nel mantenere, nel creare valore sulla motivazione delle persone. Questo perché? Perché negli ultimi 3-4 anni abbiamo vissuto delle sfide apocalittiche, cioè siamo passati da tre ondate di pandemia che hanno vinto un po' il mondo, due guerre in aree strategiche, abbiamo vissuto tassi di inflazione alti, noi abbiamo chiuso l'ultimo rinnovo appunto contrattuale triplicando i minimi, adesso stiamo guardando la chiusura d'intesa che citava appunto il collega, perché le banche a questo giro partono per prima e poi arriveremo noi come settore energie e petrolio, ma insomma ci aspettiamo dei precedenti abbastanza significativi. Un dibattito politico che si è animato da un lato di attori politicamente recenti, Zelensky, Grillo, Trump, ma anche degli attori industriali nuovi, Tesla, Alibaba, settori nuovi, Meta, eccetera. Quindi le persone si sono abituate anche al bisogno di avere una storia che viene raccontato, uno storytelling e su questo la sostenibilità è molto importante, cioè prima la domanda delle persone era se vengo a lavorare da te in dieci anni dove arrivo, che cosa posso fare? Il famoso piano di carriera. Oggi è, io so quello che voglio provare, so come voglio stare se vengo a lavorare all'interno di un'azienda, quindi c'è tutto un tema di benessere, benessere durevole, di qualità, di conciliazione, che è profondamente cambiato, che tocca i temi della flessibilità, dello sviluppo. Noi abbiamo un picco di dimissioni nuovo che sta sotto i 12 mesi di anzianità in azienda e con persone che escono, spesso escono dal settore, che peraltro è anche un settore strategico, importante, ci sono molte sfide legate alla transizione energetica, escono lamentando che non c'è un sufficiente percorso di sviluppo, che però richiede un tempo, anche di conoscenza, capire chi è la persona, che caratteristiche ha. Direi, seconda priorità, il tema che citava prima, anche il rettore, cioè sicuramente garantire un livello di qualifica adeguato e continuativo. qualche anno fa si parlava di learning organization, direi che oggi questo torna forte appunto nel pattern, diciamo, delle nostre priorità. Ultimo direi, integrazione intergenerazionale, lo citava il collega, da noi le generazioni a lavoro oggi non sono cinque, sono quattro in Snam, però abbiamo vissuto una forte discontinuità, noi eravamo parte del gruppo Eni fino al 2012, quindi quelle che allora erano le grandi ondate di recruiting, 40 anni dopo le abbiamo vissute sotto forma di grandi ondate di uscite, pensionamenti per pensionamenti. Quindi abbiamo avuto un tour rover tra ingressi e uscite su un totale di 4.000 popolazioni, di 2.500, che sono tantissime, è stato un cambio epocale, quindi abbassamento dell'età media, e questo vuol dire davvero integrare generazioni diverse, e quindi permeare la cultura con il digitale, capire comportamenti nuovi, adattare stili di leadership. Abbiamo creato un advisory board di ragazzi che hanno un'età media sotto i 29 anni per capire che cosa queste persone, come reputano che i processi aziendali effettivamente oggi siano utili anche alla vita delle persone. Interessante perché mi sono riconosciuto, la nostra generazione chiedeva fra dieci anni dove sono, cosa prendo, come mi fai crescere, i giovani ha ragione te, chiedono i valori, il purpose, il contesto, il bilanciamento, ma è molto risuonato quello che hai detto. È interessante anche cross settori, il tema dell'integrazione multigenerazionale, quindi politiche che integrano queste diverse popolazioni a lavoro, che hanno diversi bisogni, hanno diverse aspettative, e hanno anche diverse competenze che a noi servono, perché il tema delle competenze adesso lo andremo a toccare, mi ha troppo un grosso firouge. Chiederei a Mauro, invece di raccontarci anche l'esperienza che sta facendo, che sta vivendo, e ovviamente in questo caso anche con una dimensione territoriale, molto importante, con il ruolo che ha la tua azienda nei confronti dei cittadini, quindi è interessante capire tu anche come vivi questo aspetto. Sì, grazie. Buongiorno a tutti e a tutti. Ma direi le sfide che io vedo nella nostra azienda in questo momento, e quello che noi possiamo fare per i nostri clienti, per i nostri cittadini, e per chi lavora con noi. C'è un grossissimo tema, che è quello che continua a essere, quello della diversità, dell'equità e dell'inclusione. In A2A stiamo facendo un lavoro per capire se effettivamente siamo, così come ci dicono i primi dati, sul gender pay gap bravi, stiamo facendo un lavoro più approfondito per capire veramente in dettaglio, in profondità, se questo è o non è un tema che ci riguarda. E c'è sicuramente un tema di accesso a posizioni manageriali da parte delle donne. Cioè noi abbiamo, credo come Paese, bisogno del lavoro delle donne, che tra l'altro sono anche più laureate degli uomini in media. Quindi abbiamo sicuramente, noi come aziende, noi come Paese, bisogno di portare più donne a lavorare, anche perché creano un ambiente di lavoro sicuramente meno tossico di quello che si crea quando c'è troppo testosterone nell'area. L'altro aspetto importante, sempre sul tema della diversità, e anche questo sul tema di come abbiamo il rapporto con i territori, è quello delle differenze culturali. Cioè noi abbiamo una grossa popolazione che fa lavori umili, che fa lavori modesti. I colleghi e le colleghe che vanno tutti i giorni in giro a tenere pulite le nostre città, a fare lavori nel mondo della raccolta, degli rifiuti, dell'igiene urbana, stanno diventando sempre di più persone di quelle fasi di immigrazione. Quindi dobbiamo trovare un modo di integrarle veramente nei luoghi di lavoro e anche fuori dai luoghi di lavoro. Cosa intendo per fuori dai luoghi di lavoro? Ne parlavamo con Roberta Segalini che vedo in platea la scorsa settimana. Noi abbiamo lavoratori che guadagnano poco e che vivono e lavorano in una città molto costosa, Milano. E devono essere al lavoro alle 5 del mattino. Quindi devono alzarsi alle 3, prendere la macchina, il treno non c'è a quell'ora, per venire a lavorare, perché altrimenti non possono vivere in una città in cui gli affitti sono così alti. Quindi ci stiamo ponendo il problema di come aiutare queste persone e come farle vivere nel nostro territorio. Il terzo tema importante per noi è tutto quello che sta arrivando dall'Europa, dal mondo, dal paese, sulla nostra catena di fornitura. Ce ne abbiamo delle aziende, qua sono rappresentate aziende organizzate, moderne, che da tempo hanno una serie di tool, di technicality, delle risorse umane e che si confronteranno su iniziative, penso alla pay transparency. Fra tre anni noi dovremo pubblicare le bande retributive, non potremo più chiedere ai candidati quanto guadagnano, dovremo dire alle persone dove stanno e diciamo che, credo, almeno per quanto riguarda questo panel, siamo tutti mediamente attrezzati per farlo. Ecco, pensiamo all'azienda di 200 persone che, se va bene, spero per loro non ha il direttore del personale, ha qualcuno che gli fa gli stipendi e che deve fare le stesse cose. Quindi noi stiamo ponendo il problema di, e lavoreremo, credo, con alcuni dei colleghi qua, capire come aiutare queste aziende, perché non è che uno dice, sai, l'azienda Pinco Pallino non lo fa, vabbè, chi se ne frega, no, quell'azienda lì tira giù la Claire e non ci fa più, e non ci fa più i servizi. Quindi diventa un problema di come erogare i nostri servizi, come comprare prodotti da aziende che ad oggi non sono attrezzate, spesso le associazioni di categoria, secondo me guardando un po' con la lancetta lunga, che mi è piaciuto molto l'analogia di Criciore del Rettore, non pensano al fatto che fra tre anni queste cose succederanno. Grazie, grazie Mauro. Vorrei chiedere a Cristiana anche una view internazionale, tu rappresenti una multinazionale, poi avremo anche Luca, ci puoi dare le prospettive anche immaginando il mondo come un unico potenziale bacino di talento. Intanto inizio col dire che Intercos è un'azienda internazionale, multinazionale in fase di evoluzione. Quindi diciamo che le nostre priorità al di là dell'internazionalizzazione sono un po' a rivedere a 360 gradi quello che è un po' l'approccio alle persone, partendo da un contesto che è cambiato negli ultimi due anni in maniera importante perché ci siamo cotati recentemente, ormai recentemente due anni fa e questo ha comportato davvero un ripensamento della nostra cultura. La cultura evidentemente è una cultura che risente positivamente dell'imprenditore e della genialità dell'imprenditore che ha fatto della sua genialità appunto la potenzialità di espansione dell'azienda, anche al destro evidentemente, e che oggi richiede per mantenere quella genialità di investire sull'integrazione, sulla gestione della diversità che è una diversità evidentemente non solo di genere e non solo di nazionalità ma proprio di profonda cultura diversa e questo è certamente al centro della nostra filosofia, ripensamento e anche investimento aziendale. Dal punto di vista delle competenze, ci sono competenze diversificate, competenze che ancora dobbiamo trovare il modo per esportare e per fortificare all'estero. Il professore diceva ci sono paesi che hanno un livello di scolarità più alta, noi siamo molto forti in Corea per esempio, lì abbiamo competenze molto forti, ma questo non ci toglie la responsabilità di dover integrare comunque dei modelli culturali diversi, perché fare il nostro mestiere noi non lavoriamo in un settore così strategico apparentemente anche se ci occupiamo di cosmetica che è un settore bellissimo, sicuramente è un settore molto legato al benessere quindi comunque è importante credo sotto certi punti di vista. Le competenze vanno costruite dall'interno, non sempre le troviamo dall'esterno, soprattutto all'estero appunto e quindi l'idea di costruire uno sviluppo interno delle nostre competenze diventa chiave per noi altrimenti soccombiamo, perché ripeto non si trovano purtroppo sugli scaffali. E l'altro aspetto importante che anche noi stiamo vivendo è il tema dell'attraction e della retention che è un tema che abbiamo tutti sul tavolo e ripeto ci sono alcuni paesi, l'America per esempio che fa un po' da traire in questo senso sulla necessità di investire su una retention a medio termine. Concordo con il collega quando ha detto la retention a lungo termine forse è una chimera ormai. Dobbiamo gestire la retention che per noi sui giovani è di due anni in realtà, quindi più o meno vicino a quello che diceva Paola. Allo stesso tempo dobbiamo investire anche sulla leadership interna, su come noi gestiamo queste persone e quindi ritorno al concetto delle generazioni al lavoro, l'investimento su una leadership diversa, su come noi gestiamo le persone con modelli anche culturali ripeto diversi diventa chiave, quindi l'investimento non è solo sulle persone che arrivano ma anche sui capi e su come loro implementano il loro modello gestionale. Questo ripeto è per me l'elemento chiave, quindi la gestione dei capi e della leadership e la capacità di integrare culture profondamente diverse. Un back to basic alla gestione dei capi ovviamente con una nuova nuanza perché nel tempo era in un certo modo adesso si stanno portando i nuovi modelli di leadership nelle organizzazioni. Ecco e chiuderei questo primo giro con Luca e Eni da sempre la nostra point of reference di molte organizzazioni. Quindi volevo veramente un tuo pensiero sull'oggi e sul domani e su cosa secondo te anche prendendo lo stimolo del professore dovrebbero fare le grandi organizzazioni per aiutare quel sistema educativo che un po' soffre con un piccolo caveat io professore non metterei un O tra formazione tecnica e formazione universitaria ma metterei un E perché noi abbiamo credo entrambi bisogno di lavorare sulle due questa è la mia lettura sulle due prospettive. Luca Allora funziona? Sì sicuramente il tema della formazione è un tema molto importante e in qualche modo noi siamo particolarmente impegnati su tutto ciò che è upskilling reskilling e soprattutto anche in qualche modo aumentare la nostra capacità di avere un collegamento con l'università però in generale questa è una delle nostre priorità che poi magari dopo in maniera schematica vi racconto però secondo me quello che volevo come dire dire prima di entrare nel merito delle singole priorità è un po' questo collegamento forte che c'è tra lo sviluppo del business quindi la business strategy e come dire il collegamento che c'è con gli impatti sulle persone quindi la people strategy secondo noi questo è un connubio fondamentale quindi insomma l'HR deve in qualche modo sviluppare le proprie azioni e quindi definire le proprie priorità proprio pensando e lavorando insieme alla linea su quelle che sono le direttrici di sviluppo per fare questo volevo dare un po' prima di tutto un contesto di Eni cioè un contesto su cui si muove Eni per poi capire meglio perché abbiamo deciso queste priorità tra cui quella della formazione è una fondamentale allora sicuramente il contesto voi conoscete il contesto c'è molta volatilità del mercato c'è un contesto geopolitico molto instabile e ovviamente c'è anche un'assenza di una politica comune a livello mondiale sul tema energetico ed in particolare anche a livello europeo e se a questo ci aggiungiamo quali sono i principali obiettivi di Eni in questo contesto che sono sicuramente la sicurezza energetica quindi garantire la possibilità di avere l'energia disponibile sempre che è il nostro primo obiettivo il secondo macro obiettivo è agire e quindi svolgere le nostre attività in un modo sostenibile sia da un punto di vista economico sociale che ambientale e poi ovviamente l'altro è cercare di assicurare di favorire l'accessibilità all'energia a chi oggi l'energia non c'ha quindi questi sono i tre macro obiettivi su cui noi ci muoviamo in un contesto come vi ho detto prima abbastanza complesso e quindi da qui discende un pochino quali sono le azioni le leve che una società come la nostra deve mettere in piedi per poter raggiungere questi risultati vi racconto molto rapidamente perché poi è più facile capire quali sono poi le priorità che come funziona i char ci siamo dati in questi ultimi due anni ed è un programma appunto che stiamo mantenendo vivo e fermo da due anni e che vogliamo mantenere ancora per i prossimi tre anni allora sicuramente cosa facciamo dobbiamo avere sicuramente un approccio neutrale alle tecnologie quindi alle soluzioni tecnologiche quindi esprimiamo questo concetto di neutralità tecnologica non puntiamo ad una unica tecnologia ma sfruttiamo tutte le tecnologie attuali presenti per poterle decarbonizzare ed utilizzarle per arrivare poi alla assoluta decarbonizzazione e l'utilizzo della nuova energia nel futuro ma per poterla fare dobbiamo arrivarci quindi per poter arrivarci dobbiamo utilizzare un approccio di neutralità tecnologica lo dico perché ha un impatto particolarmente rilevante sulle politiche HR su come poi dopo vengono definite le priorità perché dobbiamo mantenere know-how sia l'attuale e sviluppare anche il know-how futuro quindi su questo è particolarmente delicato questo principio questa azione che dobbiamo fare per mantenere i risultati che ci siamo detti l'altro elemento fondamentale è un elemento di carattere organizzativo siamo abituati sempre a parlare di cose più soft ma in realtà poi dopo l'azienda si muove con dei meccanismi organizzativi in un contesto come quello che vi ho appena diciamo in qualche modo illustrato rapidamente è necessario avere un contesto organizzativo molto agile molto rapido che sia pronto al cambiamento che abbia proprio un approccio al cambiamento quindi cambiare strutture organizzative e processi altro elemento fondamentale di cui l'HR deve giocare un ruolo assolutamente di primo rilievo insieme al top management un altro elemento fondamentale che ha impatto su ciò che poi facciamo a livello di priorità aziendale di HR è la capacità bisogna sempre avere più capacità di leggere diciamo il contesto sia nel breve ma soprattutto anche nel medio e nel lungo periodo si parlava prima delle tematiche demografiche anche quelle nel lungo periodo sono fondamentali anche per poter fare delle previsioni e poter impostare azioni e deliverable per il futuro bisogna sviluppare un contesto di lavoro sicuramente favorevole quindi anche qui tutto ciò che è well being e attenzione alle nostre persone e quindi comunque avere delle persone che in qualche modo combinino sia l'attuale know-how ma anche con il know-how più tecnologico e digitale queste sono le azioni che noi dobbiamo mettere in campo che stiamo mettendo sulla base della quale abbiamo elaborato la nostra diciamo strategia e priorità a livello HR a questo punto io vorrei fare una rapida caldellata perché mi sa che ho preso già troppo tempo e poi magari se c'è magari facciamo qualche approfondimento la nostra strategia quindi la nostra people strategy che si collega appunto alla business strategy è suddivisa in 7-8 macro temi alcuni un po' più soft e altri un pochino più hard come l'organizzazione e il sistema normativo allora non vado in ordine diciamo un po' più di processo c'è tutto un tema che riguarda e che è stato richiamato dai colleghi e che abbiamo tutti lo stesso punto di attenzione che riguarda l'attraction il recruiting e l'onboarding cioè quindi l'attenzione che dobbiamo mettere nel promuovere l'employee value proposition quindi come ci poniamo sul mercato ma soprattutto come facciamo a selezionare i migliori talenti e soprattutto come facciamo a facilitare il loro inserimento all'interno dell'azienda e soprattutto mantenere la loro presenza all'interno dell'azienda quindi c'è un investimento molto forte sul tema dell'onboarding che è un processo che probabilmente abbiamo un po' tutti quanti su cui noi in questi ultimi anni abbiamo particolarmente investito e stiamo investendo sempre di più perché riteniamo che sia una chiave che ci consente di far aumentare l'engagement quindi è il secondo macro tema l'engagement dei nostri giovani quindi da una parte attrarre i talenti e dall'altra a tramite l'inserimento in azienda di processi di onboarding mantenerli all'interno dell'azienda perché si sentono parte della stessa questo passa pure come diceva la collega precedentemente da un cambio di mindset da parte dei responsabili perché altrimenti senza questo cambio di mindset sicuramente l'onboarding è un processo che non potrà mai funzionare quindi abbiamo parlato dell'engagement e dell'onboarding c'è tutto il tema diciamo dello sviluppo delle persone che è un altro tema fondamentale su cui anche qui per noi è una priorità e stiamo investendo parecchio su tutto ciò che è la ricerca del talento all'interno dell'azienda lo sviluppo più rapido possibile del talento con dei percorsi accelerati che è quello che ricercano i nostri giovani e un investimento sulla formazione sia da un punto di vista di upskilling che di reskilling il quarto blocco sembra diciamo scontato ma in realtà è una cosa molto importante su cui Eni sta investendo particolarmente è il tema del business alignment quindi l'allineamento degli obiettivi dell'azienda agli obiettivi delle persone quindi ancorché tutti noi abbiamo il sistema di performance management che poi segue un processo di compensation noi lo abbiamo sempre avuto ce l'abbiamo da sempre riteniamo che funzioni ma stiamo investendo per fare un qualche cosa di innovativo su cui vogliamo cambiare perché riteniamo che più è forte questo processo di attribuzione degli obiettivi alle nostre persone al nostro management ma noi lo attribuiamo sostanzialmente a tutti i dipendenti più è forte il collegamento delle persone sugli obiettivi della strategia aziendale altre priorità sono legate al cambio di mindset alla leadership e tematiche culturali fondamentali ecco e poi ne cito un altro paio e chiudo e poi se vogliamo fare qualche approfondimento a disposizione sono uno è l'advocacy quindi su questo siamo particolarmente in prima linea con le istituzioni pubbliche le amministrazioni pubbliche le università e le scuole in generale in generale è un concetto fondamentale cioè della disponibilità da parte delle funzioni HR ma in generale delle funzioni ENI verso queste istituzioni per poter identificare azioni che possano migliorare e soprattutto sostenere la transizione abbiamo bisogno di aumentare la capacità di orientamento per esempio abbiamo bisogno di incidere sul ricambio generazionale se non ci sono strumenti disponibili per cui le aziende possano utilizzare ad esempio per aumentare la capacità di fare il ricambio generazionale diventa complicato effettivamente avere la disponibilità delle risorse giuste al momento giusto con le competenze giuste l'altro tema è un tema ancora più diciamo hard che è quello del sistema organizzativo e normativo su cui una società come Eni si deve per forza ammodernare sempre in maniera continua proprio perché è sul mercato e questo mercato è molto volatile e ha bisogno di essere rapida sul mercato e quindi deve evolvere da un punto di vista di processi aziendali e di organizzazione ed è l'altro tema fondamentale su cui Le Char ha investito e sta investendo nei prossimi anni proprio per fare dei cambiamenti seri da questo punto di vista grazie Luca è molto molto interessante secondo me il collegamento questo collegamento forte con la business strategy per esempio l'esempio sulla neutralità tecnologica e le cadute sull'attenzione a tutti i know-how questo è diciamo un bellissimo link tra quanto bisogna fare sul business e come questo è declinato quindi diciamo mi piace moltissimo questo binario forte di collegamento sulla tua mappa che credo molte aziende hanno ma è un ritorno cioè io adesso ho avuto un deja vu ho immaginato cinque anni fa questi discorsi cinque anni fa si parlava taglio i costi gestisco ristrutturo riorganizzo disinvesto retention no no meglio che vanno via cioè e lecciare era molto tattico era molto operativo era molto non è che in alcune situazioni non rimanga su alcune richieste così però era il pensiero dominante era molto corto adesso da tutti i vostri interventi c'è un pensiero lungo c'è un pensiero sociale c'è un pensiero di sostenibilità c'è un pensiero di integrazione devo dire adesso lo dico veramente da osservatore siamo in un osservatore quindi mi metto faccio il consulente insomma che parla parla poi alla fine fa poco non è così però mi commento in questo modo però vedo questo cambiamento e questo credo che produca la ricchezza poi dell'organizzazione del paese quindi lo percepisco da voi faccio un giro riparto da Roberto e so che ci devi lasciare però ti chiedo una battuta perché tutto questo l'abbiamo immaginato comporta una sfida per voi Roberto Luca Paola Cristiana Mauro e per loro quelli di loro che magari fra qualche anno avranno opportunità di avere i vostri ruoli quindi che competenze che pensiero che cambiamento tu percepisci sul tuo ruolo e come te lo immagini beh intanto come hai detto te bisogna riprendere ancora di più centralità della nostra ruola all'interno dell'azienda cioè l'Ichar si deve far sentire in poche parole deve trovare il modo di essere parte attiva peraltro penso al mio mondo un'azienda di servizi capitale umano se non è quella la cosa trainante dove vai e quindi devi veramente avere un filo diretto con il tuo leader per cercare di avere un'unica strada anche perché sono convinto che è dai capi che parta l'esempio noi nel nostro mondo strutture organizzative che si schiacciano che si schiacciano perché abbiamo dovuto gestire l'efficienza il taglio costi tutte quelle cose che tu hai detto oggi un mondo che deve crescere ma tutte le banche vogliono crescere e quindi è evidente che l'eccellenza la ricerca dell'eccellenza diventa il fatto fondamentale per proporti sul mercato e quindi allineare tutti i tuoi responsabili su questi ragionamenti non è così semplice per questo che la parte formativa manageriale diventa strategica e per questo che probabilmente dovremo fare grandi investimenti su queste su queste tematiche anche perché poi nel momento in cui tu declini in maniera corretta passando anche nel nostro mondo da una carriera gerarchica fatta di una scala che salivi a invece esperienze diversificate per poter poi fare il manager globale questo penso che sia la grandissima sfida che noi avremo vi lascio e devo scappare grazie arrivederci a tutti Paola posso farti una domanda difficile insomma se permetti come si gestiscono liceo una bella domanda allora io dico sempre che il mestiere dell'each è guardare in alto in basso allo stesso tempo e nelle stesse proporzioni che è sempre una grande sfida allora mi alzi mi dai un assist perché ti avrei detto come cambia il ruolo dell'HR sicuramente oggi nell'essere anche a tutela di una buona governance cioè abbiamo un interlocutore che sono gli investitori il mercato quindi la nostra responsabilità è allineare gli interessi degli investitori rispetto agli interessi del management agli obiettivi soprattutto del management e il CEO in questo momento è un po' oggetto da un lato è motore internamente all'azienda dall'altro è anche oggetto di osservazione da parte del mercato oggi gli investitori ce lo dicono società come Mercer non guardano più solo ai fondamentali quindi all'andamento agli indicatori macroeconomici guardano alla strategia guardano al profilo dell'amministratore regato come investe dove spende come costruisce una strategia di lungo periodo e l'HR in questo ha un ruolo fondamentale se pensiamo alla governance pensiamo solo a tutto il lavoro che facciamo sulle politiche di remunerazione cioè come viene pagato il CEO su quali indicatori su quali obiettivi nel breve e nel lungo periodo e poi è accascata tutta la popolazione aziendale direi quindi il CEO appunto fa parte di un panorama ben più ampio di stakeholder management lo è lui stesso oggetto per noi ma poi è motore all'interno dell'azienda e aggiungerei tra le sfide sicuramente il torno un po' al tema della sostenibilità nel lungo periodo della motivazione delle persone le persone che oggi si chiedono qual è il disegno più grande a cui sto contribuendo perché sono qui perché sono in azienda alcuni lo chiamano il purpose diciamo oggi per noi vuol dire tenere insieme due componenti cioè da un lato un po' il tenere sempre ordinata la stanza lo citava bene Luca prima diceva bisogna lavorare sul backbone sui processi quindi linearizzazione ottimizzazione la lean attenzione agli sprechi eccetera però questo è un po' il commitment cosiddetto normativo cioè tu dai alle persone la stanza giusta un ufficio con la giusta metratura con la luce non troppi sprechi se hai pagato il giusto secondo il mercato eccetera dall'altro però devi raggiungere il cuore la sfida vera è tenere insieme commitment normativo quindi anche efficienza e commitment affettivo come tocchi il cuore delle persone e allora è lì che forse devi accettare anche alcune volte un po' dei sovrainvestimenti i gruppi di lavoro i gruppi interfunzionali alcuni progetti trasversali l'open innovation la celebrazione delle idee cioè fare in modo che le persone siano veramente contributori attivi cioè per anche far fronte a dei fenomeni nuovo il famoso quiet quitting faccio cadere la penna se non capisco bene qual è il senso mio all'interno dell'organizzazione e qui sta proprio il nostro valore aggiunto credo nel tenere insieme appunto un po' questi due componenti che bella questa simbologia toccare il cuore devo dire mi ha molto colpito e Mauro la tua la tua opinione ma la mia opinione è che il nostro ruolo intanto credo che sia bellissimo stia diventando sempre più rivolto verso una moltitudine di forze interne e esterne cioè io se penso al mio a come spendo il mio tempo lo spendo tantissimo guardando fuori dall'azienda parlando con altre persone fuori dall'azienda siano essi investitori regolatori diciamoci mettere dentro anche i nostri consiglieri d'amministrazione in quanto interni e esterni istituzioni università credo che il ruolo dell'azienda in questi anni si dovrà ancora di più allargare quindi ne parlavamo prima del meeting ci sono una serie di cose che il nostro paese non riesce più a fare il nostro stato non riesce più a garantire o lo garantisce in modo non efficiente penso a tutto il tema del welfare io e te siamo da qualche anno su questa strada io ricordo mi occupavo di politiche retributive nei primi anni 90 c'era un must un mantra che era we don't compete on benefit cioè benefit è voglio dire dai stai sulla mediana del mercato fai quello che fanno tutti ecco io credo che intanto noi li chiamiamo più benefit non abbiamo iniziato a parlare di welfare credo che lavorare su questo tema migliori un po' di tanto l'attrattività e la retention un po' quello che diceva prima Paola noi stiamo lavorando con Bocconi proprio su un tema di come A2A può favorire nel suo piccolo il tema della genitorialità della genitoriale consapevole cioè di abbattere nel nostro piccolo quell'inverno demografico ma vuol dire anche farsi carico secondo me di tutto il sistema di well-being nel senso più vero che non è solo come diceva prima Paola dagli l'ufficio giusto ma dagli anche probabilmente la possibilità di avere un medico di base la possibilità di avere un sistema sanitario che funzioni integrativo a quello pubblico quindi lavorare su questo insieme di cose secondo me dà una grande motivazione al nostro ruolo e ancora e ancora cito il tema di come noi come noi direttori del personale come noi direttori del personale di grandi aziende aiutiamo il sistema cioè come noi possiamo fare un'azione di sistema nei confronti delle piccole aziende che magari fanno fatica a stare al passo e che a volte sono anche come dire portatrici di magari culture organizzative che negano quello che io credo vediamo un po' tutti cioè l'evoluzione nel mondo del lavoro credo che sia sotto gli occhi di tutti e vedi ancora sacche del paese delle aziende in cui dicono adesso che è finito il covid torniamo tutti in azienda ecco in un mondo in cui stiamo andando verso la trasformazione drammatica della generativa AI gente che mi parla ancora di stare in ufficio cinque giorni non si pone il tema che probabilmente fra due anni non avremo il tema dell'ufficio avremo il tema di chi lavora e chi fa il lavoro mi preoccupa un pochino quindi credo che noi abbiamo la responsabilità di aiutare le aziende mi piace molto che lo dicevi a guardare un po' avanti e dico non solo le nostre aziende ma anche le aziende di questo paese hai perfettamente ragione mi hai lanciato anche un'idea vediamo se riusciamo a realizzarla e tu Cristiane hai anche il tema dell'imprenditore no? quindi siccome molte aziende qui sono nella tua condizione mi interessa anche la prospettiva delle char quando c'è una famiglia no? che è il punto una famiglia un imprenditore un'imprenditrice che è il punto di riferimento ma allora parto dal dire che secondo me HR deve essere credibile in azienda e deve essere credibile comprendendo il business sicuramente questo è il punto di partenza e quindi mi collego a quello che dicevano esatto perché e per arrivare a questo devi essere competente e riprendo la parola che hai detto tu delle competenze e competenze che sono in grandissima evoluzione in questo momento tu parlavi dell'imprenditore io ho un imprenditore di ottantenne che adesso qualsiasi cosa succeda guarda chat GPT e ci dice questa è la risposta ed è così veramente quindi noi possiamo decidere se rigettare questo o se imparare a nostra volta a capire come usare le tecnologie ripeto perché lui è comunque avanti la sua genialità non l'ha persa ok? poi dopo di che sta a noi riportarla a quello che può essere utile ma sicuramente non possiamo stare un passo indietro e quindi l'HR deve ritornare a studiare a studiare non semplicemente quelle che sono le nostre competenze di base ma deve studiare quelle che sono le nuove tendenze noi siamo degli influenzatori di cambiamento ma appunto quando hai di fronte un imprenditore che veleggia e veleggia veramente peraltro a quelle velocità tu devi assolutamente ripeto studiare imparare e capire che cosa vuol dire usare la tecnologia la digitalizzazione in un'azienda come la mia che è un'azienda che ha ancora tanta strada da fare sulla digitalizzazione sulla automatizzazione anche della produzione però questo secondo me è il punto di partenza imparare cose nuove bello bello quello che dici imparare detto da voi da te e l'altro influenzatore del cambiamento un'altra bellissima suggestione chiuderei con Luca la tua view sul tuo ruolo sul vostro ruolo per il futuro mi ritrovo assolutamente con tutto quello detto fino adesso ecco avrei detto pure io la prima cosa è quello di conoscere il business cioè noi HR siamo credibili se siamo in grado di comprendere fino in fondo i meccanismi di funzionamento del business e soprattutto anche aggiungerci una visione di medio lungo termine per consentire supportare il management nel tradurre quindi l'evoluzione del business in azioni che hanno a che fare con le persone quindi questo è il nostro primo obiettivo senza la competenza il know-how la conoscenza del business in cui noi stiamo possiamo conoscere tutte le practice migliori dell'HR ma probabilmente non siamo in grado di dare quel servizio e quella partnership strategica che dovrebbe costantistinguere il nostro ruolo differentemente da qualche decennio fa quindi secondo me questa è la prima cosa sembra scontata ma in realtà non lo è nel senso che non tutti noi siamo così propensi a spendere del tempo per comprendere bene i meccanismi di business altre cose importanti sono il tema anche qui sembra banale dirlo ma in realtà il tema delle tecnologie e della digitalizzazione ovviamente tutti noi sicuramente le grandi aziende abbiamo i nostri software diciamo integrati ok averli a un conto è gestirli e assicurare la disponibilità dei dati cosa che secondo noi ma penso una parere comune è fondamentale l'utilizzo e la predittività che si possono che si può utilizzare per poter studiare gli eventi nel futuro presuppone avere una certa competenza una certa dimestichia e che all'interno quindi delle funzioni di risorse umane questo tipo di competenza deve essere molto vicina deve essere interna ci deve essere un collegamento forte quindi tra il data analytics e le competenze HR poi ecco un'altra cosa che è emersa io la dico così cioè noi siamo sostanzialmente protagonisti nella evoluzione della cultura aziendale quindi un altro tema fondamentale su cui ci dobbiamo impegnare ed è il ruolo che ci dobbiamo assumere è proprio questo protagonismo lo dicevamo prima in un altro modo lo diciamo un po' tutti che poi arriva anche al cuore quindi oltre ai sistemi hard ma poi dopo di che la cultura la diversità l'inclusione l'engagement noi siamo protagonisti siamo noi che abbiamo le leve per poter incidere su questo ovviamente con il management ma siamo noi che supportiamo il top management nel fare in modo che l'azienda abbia una cultura di un certo tipo e quindi dobbiamo prepararci dobbiamo studiare per questo allora altre due cose ci dobbiamo occupare sempre di più del benessere delle nostre persone ma qui direi lo diciamo sempre lo abbiamo già detto non mi dilungo un tema su cui invece voglio dire una parola in più è lo diceva prima Paola è il tema della governance e della gestione dei rischi un'altra cosa molto importante è che il nostro ruolo ormai si è evoluto non so probabilmente tutti noi ci occupiamo ad esempio di operazione di M&A quindi la funzione risorso umano è all'interno sempre e comunque di progetti di M&A per gestire i fatti rilevanti riguardanti le persone e quindi è necessario avere una forte competenza anche sui temi di governance questo e dall'altra parte c'è il tema dei rischi le nostre attività generano rischi e quindi tutti noi dobbiamo imparare chi più chi meno a capire bene bisogna essere preparati e avere la consapevolezza di quelli che sono gli impatti delle nostre decisioni avendo chiaro una mappa dei rischi è una gestione per rischi anche il nostro mondo deve evolvere verso una capacità di gestire le nostre attività avendo chiari quali sono i rischi e conseguentemente la consapevolezza di qual è l'impatto delle nostre decisioni su quei rischi e mettere sempre avere sempre chiari quali sono i presidi che sono a protezione di questi rischi i rischi sono di tutti i tipi non li dico però ecco questo è un altro tema secondo me molto importante ed è un po' Cristiana Paola Mauro e Luca grazie del vostro contributo della vostra presenza grazie del vostro